buonasera a tutti ben ritrovati al tg7 basilicata la polizia di stato di matera arrestato in flagranza di reato un 25enne materano per fabbricazione e detenzione di arma clandestina l'arma una pistola scacciacani modificata artigianalmente perfettamente funzionante ed idonea a sparare come una pistola vera e propria è stata trovata nella sua abitazione dagli agenti della squadra volante dove gli stessi si sono recati a seguito di una richiesta di intervento al 113 per un litigio in atto quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato il giovane intento a fumare uno spinello nell'abitazione hanno rinvenuto una bustina con all'interno della marioana e un pezzetto di hashish sul comodino della camera da letto è stata trovata la pistola modificata all'interno del caricatore già inserito c'erano due cartucce a salve modificate anch'esse con l'inserimento di un ogiva nel nucleo del bossolo la pistola le cartucce la droga e la merce contraffatta sono state naturalmente sequestrate mentre l'uomo arrestato è condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria l'addio oggi all'inadvert muller la regista di origini lucane si è spenta a 93 anni nella sua palazzo san gervasio ambientò il film i basilischi arcangela felice assunta era nata nella capitale il 14 agosto del 1928 sposata con lo scenografo enrico job è stata la prima donna nella storia ad essere candidata all'oscar nel 1977 come migliore regista ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura per pasqualino sette bellezze solo nel 2020 l'è stato assegnato il premio oscar alla carriera nel 1963 uscì il film i basilischi ambientato tra palazzo san gervasio e minervino murge giovani della provincia del sud che come lucertoli al sole passano le giornate appatici e svoiati su e giù per il paese o al circolo senza un vero obiettivo un ideale una prospettiva di vita si terrà domani alle 16 e 45 a rio nero in vulture presso il centro studi leone tredicesimo il convegno impronte di dio nell'universo interverranno monsignor cirofanelli vescovo di melfi francesco vespe astronomo pasquale tucciariello già docente di filosofia la diretta facebook sulla pagina facebook di tg7 basilicata siamo alla chiusura vediamo però insieme che cosa ci attende domani qual è il meteo previsto per venerdì 10 dicembre una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la nostra regione sono attese anche precipitazioni e neve sui rilievi fin verso i 700 800 metri per questa sera è davvero tutto l'appuntamento è qui a domani e naturalmente grazie per l'attenzione rivederci